A questo lato, in questa porzione del campo, allenamento degli esordienti del gruppo di mister Giuseppe e Gian Cristoforo, è rientrato anche dopo una lunga assenza Francesco Martina, quando ha avuto problemi si è operato, ha avuto problemi pure alle gambe, tant'è che adesso porta dei tutori speciali, ecco Martina sei in fondo, il rosso nero almeno c'è il colore del lanciano, ecco si divertono i ragazzi, così si riscaldano. Il gruppo di mister Giuseppe. C'è l'unica lady nel gruppo degli esordienti, non potrei sbagliarmi, si chiama Sara. Due esterni larghi per lo scarico, due esterni larghi per lo scarico e giochiamo la palla nel buco, dai dai dai, due esterni larghi, non ti stringi esa, resta larga, cerca di grezzo che mette, resta larga. Tutto il terreno di gioco è impegnato agli allenamenti, oggi è martedì, il primo allenamento settimanale, ieri sono stati all'Aquila alcuni gruppi di ragazzi della scuola calcio al 26esimo raduno regionale delle scuole calcio d'Abruzzo. e oggi dopo una giornata faticosa, ieri, lo rivediamo in campo nel primo allenamento settimanale, i ragazzi con le dise gialle e i verdi sono l'Ottona calcio. non ti stringere, mi stringi Matti, o tu Lorenzo larghi. Ecco, ritorniamo all'allenamento degli esordienti, si gioca vicino, ancora, da me, fermi, fermi, alla me, respiriamo, 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 non ti tremiamo, non ti tremiamo, non ti tremiamo, c'è una piccola pausa, stanno respirando, respirazioni, rossonero se l'è presa, giallorosso non ce l'aveva? Giallorosso... dai, ci siamo? com'è? ti ha problemi? Francesco come va? eh va bene? eh ok dai respiriamo, non ci fermiamo respiriamo il movimento, ragazzi dai un minuto, dai dai dai, respiriamo respiriamo ecco pure Matteo, giusto? Matteo? adesso aggiungiamo la penalità eh ecco, mister Simone qua in Ponto sta seguendo la gara del suo gruppo adesso alziamo il finestrista dai 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 dai, senza molla, siogliamo. Davanti al tappto! calciamo un po', forza calciata, dai dai dai, fatta bene. Sul posto, sul posto, sul posto, dai 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 dai, fatti bene, Manu, usa stelle braccia. Dai 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 dai, sciogli, 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 sciogli. Adesso c'era 30 secondi, fatti bene. rischi in basso teniamo fino alla fine teniamo fino alla fine teniamo fino alla fine teniamo fino alla fine fatto bene questo stit pronti? 10 avanti avanti 6 7 dai 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 fatelo bene che l'accorciamo fatelo bene che l'accorciamo fatelo bene che l'accorciamo dai gli ultimi 5 più veloce dai 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 ecco vai